Quindicesimo Sandro Hiti, quattordicesimo Jonathan Bartoletti, tredicesimo Giosuè Carboni, dodicesimo Walter Pusceddu, undicesimo Alessio Micheli. Decimo classificato Salvatore Bianco, che è quello che ha fatto il casino e ho detto che era stato Campanini, nel video invece era lui che ha fatto il macello e buttato fuori gli altri. Settimo Campanini Giorgio, sesto Elias Mannucci, quinto Stefano Berrettini, quarto Giovanni Azzeni. E adesso i primi tre classificati. Terzo classificato Mario Corbelli. E' grande Mario, mi hanno messo in ultimi passi i giovani. Sul podio? Sul podio? Sul podio? Sul podio? E' terzo? Sul podio? Sul podio? Sul podio? Sul podio? E' il punto giù il Sanna poi, ti preoccupare. Secondo classificato Antonio Siri. Primo classificato Carlo Sanna. Bravo! 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 Ecco, esci, sono i veri Sanna.